... ... ... ... ... ... ... Dottor Morello, quali sono le condizioni dei migranti sulla nave che è arrivata sul comandante Foscari? Le condizioni generali dovrebbero essere buone, a parte qualche caso particolare abbiamo un neonato che è nato su un barcone, che poi è stato trasbordato su un'altra nave e da lì sulla Foscari è deceduto perché era prematuro ho avuto notizia dal medico di bordo aspettiamo ora di verificare la situazione appena saliti a bordo abbiamo molti casi di scabbia e ci sono diverse donne incinte e diversi traumi, sono le condizioni normali quando c'è un viaggio disastroso in queste condizioni ma soprattutto un previaggio date le condizioni in cui i migranti vengono trattati in Libia Senta, le condizioni del neonato le diceva che è nato prematuro Sì, il collega diceva che è nato alla 32esima settimana e che è deceduto per arresto cardocircolatorio c'è il medico legale nominato dalla procura che andrà a fare l'ispezione cadaverica all'obitorio dell'ospedale di Modica dove si è regata la nostra dirigente la dottoressa Pignatello per conto dell'USMAF e noi inizieremo a fare le visite dopo che è sbarcato il cadavere quando avremo ricevuto l'assenso che non è morto per malattie contagiosodiffusive possiamo fare lo sbarco materialmente Allora, il dottore mi diceva che prima quindi prematuro Comandante Passo il comandante Sì, sono stata Mi pare che è maschietto il bimbo che mi ha dato molto, vero? Qualcosa di un orecchino Ah sì? Quindi lei non me la fa l'intocchia Sì, è la comandante No, sono andata e sono andata Arriva e dimmi ce ne andiamo comandante Così Secondo voi, questo è il comandante Questo è il comandante Salvo ti Salvo ti Grazie a tutti Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.